Ciao a tutti ragazzi sono Aide, come vedete torno con un nuovo video e soprattutto un nuovo video in una location molto diversa dal solito infatti sono in un parco, parco urbano, fortunatamente è una bella giornata quindi ho detto siccome dovevo registrare questo video perché non farlo in un posto un po' diverso ma senza perdere l'altro tempo, in pratica il video che voglio fare oggi è un altro di quella serie in cui chiacchiero un po' con voi di un determinato argomento e l'argomento che ho scelto oggi è un argomento per me molto importante, sono sicuro che molti di voi saranno interessati infatti ho scelto l'argomento inventare, cioè come inventare qualcosa, qual è il processo creativo che ci sta dietro e più nel dettaglio come andare a inventare anche un effetto di magia questa domanda mi viene fatta molto spesso, principalmente perché diciamo che nella mia carriera, cioè nel mio percorso su youtube e nel mondo della magia ho cercato sempre di inventare quasi tutto quello che proponevo, comunque modificare qualcosa di esistente, metterci del mio e quindi tra un progetto e l'altro, il sito, idcube, effetti inventati, la settimana è impossibile ho ricevuto questa domanda tantissime volte, quindi finalmente sono contento di poterci fare un video dedicato ci tengo a sottolineare che quello che dirò è una mia personalissima opinione, ovviamente basata un po' sulla mia esperienza su quello che è un po' il mio modo di fare e anche i consigli che vi darò ovviamente saranno prettamente personali quindi siete liberi di ascoltarli, non ascoltarli, imparare qualcosa, criticare, potete fare quello che volete ovviamente questo è semplicemente il mio pensiero beh, la prima cosa di cui vi voglio parlare, nonostante magari vi sembrerà un po' scontata vi assicuro che molte persone in realtà la sottovalutano è il fatto che per avviare un progetto, creare qualcosa, inventare qualcosa bisogna prima di tutto avere un'idea e ora la maggior parte di voi dirà, beh, ovvio, c'è cosa scontata però in realtà ci sono persone che sottovalutano questo aspetto nel senso che molte persone sbagliano perché quello che fanno è mettersi a lavorare su qualcosa cioè nel senso dicono, adesso mi metto lì per farmi venire un'idea in realtà sta proprio quello sbaglio perché diciamo che lo sforzo mentale non va fatto per avere l'idea ma per lavorare a quell'idea e questa secondo me è una cosa molto importante perché la maggior parte delle volte un'idea è una cosa che tu non puoi controllare cioè a meno che tu non sia davvero tanto sicuro di te non puoi dire, sì, la prossima settimana, martedì mi verrà questa idea, inventerò questo il prossimo mese inventerò questo ovviamente è una cosa che non si può fare perché appunto l'idea appunto quasi sempre è una cosa che viene da un momento all'altro quasi a caso, molto spesso anche in momenti in cui non si sta minimamente pensando a quella cosa non fraintendetemi, in realtà spesso iniziare a concentrarsi su una determinata cosa appunto per farvi venire quell'idea può portare risultati ma almeno per esperienza personale la maggior parte delle volte l'idea viene quando si è un po' più rilassati quando non si sta esattamente lavorando a quello ovviamente non c'è un tutorial, una spiegazione su come avere un'idea io posso darvi dei consigli su come avere più probabilità che un'idea vi venga ad esempio dicendo una cosa che vi verranno detto tutti nella vita tra genitori, insegnanti, eccetera il fatto di leggere e studiare un determinato argomento aiuta tantissimo avere delle idee appunto attorno a quell'argomento quindi molto banalmente essere molto informati su un determinato argomento leggere di questo argomento, studiare di questo argomento aiuta il cervello a creare le connessioni giuste a metabolizzare l'argomento e quindi magari a posteriori anche in un momento in cui non state pensando a quella cosa vi verrà magari un'idea questo per dire che è quasi impossibile che vi venga un'idea su un qualcosa su un qualcosa da inventare senza aver mai pensato minimamente alle cose che girano attorno a tutto ciò per farvi un esempio mirato uno degli effetti di mia invenzione è IDcube un cubo, tutti gli effetti un cubo di Rubik che però ha delle linee nere e va praticamente in modo magico a rivelare la carta che apparirà disegnata sul cubo scelta dallo spettatore ovviamente non esisteva già una cosa del genere ma capite che esiste tutto ciò che ci gira attorno nel senso esistono le carte esistono effetti che rivelano carte ed esistono effetti con il cubo di Rubik quindi diciamo che l'idea che c'è stata in background è stata quella di voler unire le cose e questo era solo proprio l'inizio dell'idea l'idea vera e propria è stata pensare di fare un cubo che può rivelare le carte questa idea però ovviamente non è venuta a caso non è piombata da un momento all'altro nel cervello ovviamente c'erano già le basi perché questa idea potesse venire quindi studiando tutte queste cose leggendo di tutte queste cose il cervello in un momento di calma, di tranquillità è riuscito a metabolizzare, a unire le cose e quindi a creare quella che appunto poi sembra o appunto è un'idea questo è un consiglio per un po' agevolare le idee poi sono convinto anch'io che se uno in quel momento sta si sta concentrando molto su un determinato argomento gli può venire in mente qualcosa anche in quell'istante non è che l'idea viene per forza quando siete al mare sotto il sole da un certo punto vi viene l'idea cioè è ovvio che anche questa cosa è molto soggettiva bene e da questo punto mi collego all'altra parte fondamentale ovvero al come inventare qualcosa perché diciamo che nonostante l'idea e l'invenzione sembrino esattamente la stessa cosa dal mio punto di vista c'è una leggera differenza mi spiego meglio diciamo che l'idea è effettivamente l'oggetto la routine il progetto che io voglio andare a fare l'invenzione, chiamiamola così è il momento in cui io riesco a realizzare a capire come realizzare questa cosa per farvi capire meglio cioè io adesso potrei avere l'idea di creare una macchina volante che non consuma petrolio ma aria cioè ok io ho avuto quest'idea ma c'è una grossa differenza tra avere l'idea e realizzarla quindi io potrò effettivamente parlare di idea realizzata quindi di invenzione una volta che avrò trovato il modo di fare quella cosa che appunto ho ideato vabbè ma al di là di questo andiamo effettivamente al concreto perché magari queste possono solo sembrare parole dette all'aria senza andare troppo nel grande quindi senza pensare proprio di avere un'idea innovativa o così cioè se io mi metto lì e voglio inventare un effetto un effetto di magia o magari modificare una cosa già esistente ma mettiamo adesso proprio inventarlo tra virgolette dal nulla è ovvio che appunto partendo dal nulla non è che mi può venire un'idea a caso l'idea in questa cosa può venire in un secondo momento ma vi spiego ancora meglio nel senso il consiglio che io mi sento di darvi se volete appunto inventare un vostro effetto almeno io faccio così poi dopo ognuno fa come vuole però io faccio in questo modo non è iniziare a pensare a tutte le tecniche che so le cose che so e cercare di fare delle migliorie e arrivare ad un effetto poi che non esiste ma quello che faccio è partire dal finale molto banalmente questo forse vi sembrerà strano perché non so se effettivamente molte persone la vedono in questo modo però quello che faccio io è almeno la maggior parte delle volte non sempre ma la maggior parte delle volte non so per farvi un esempio io mi dico voglio che da questo effetto alla fine ci siano quattro mazzetti dove in cima c'è ad ognuno un asso e tutte le restante carte siano carte bianche bene questo è il finale quello che voglio ottenere nell'effetto beh l'invenzione l'idea sta nel trovare il modo di farlo quindi adesso il mio tempo io non lo spreco a pensare a cosa voglio ottenere questo è il minimo io il mio tempo lo uso per capire come farlo e come ottenerlo e questo è molto importante perché se io perdo tempo a non so cercare un qualcosa per andare a fare qualcos'altro ma non ho idea di nulla cioè lavoro solo sul fatto che prima o poi mi verrà un'idea e quindi capirò che cosa fare si perde davvero tanto tempo se invece io mi concentro prima un minimo su quello che voglio fare anche se sul momento non mi viene nessuna idea su come farlo e poi uso effettivamente il tempo per invece capire come fare non sempre è possibile non sempre la via è semplice però questo secondo me facilita davvero di molto il fatto di andare ad inventare qualcosa e poi più in particolare un effetto quindi da quel momento quando io vado a lavorare ad un determinato finale a quel punto posso iniziare a fare brainstorming e iniziare a vedere quali sono le tecniche che mi permettono passo per passo di raggiungere quell'obiettivo come posso combinarle come cambiarle e renderle adatte per rendere più fluido l'effetto la presentazione da farci diciamo che il tutto viene costruito piano piano per raggiungere un obiettivo cioè il fatto di avere già in testa un obiettivo da raggiungere aiuta davvero tantissimo il cervello a lavorare almeno un minimo per schemi anche in una cosa che sembra un po' fuori dagli schemi appunto perché tecnicamente è una cosa inventata ovviamente per esperienza personale vi dico che a me sono capitate in realtà tante cose diverse cioè da idee venute a caso da idee pensate da effetti inventati partendo dall'inizio invece che dalla fine dalla fine invece dall'inizio ma in realtà il metodo che uso sempre che mi ha dato maggiori risultati e soprattutto che mi ha messo in grado di elaborare il mio proprio pensiero a riguardo anche proprio statisticamente parlando è appunto quello che vi ho fatto in questo video sono sicuro che in molti punti vi sarò sembrato un po' confusionario cioè non proprio chiaro per ogni passaggio però questo forse è normale perché è un argomento secondo me davvero difficile perché appunto questo è un argomento in cui non è semplice mettere dei paletti cioè mettere delle linee guida perfette da seguire ma tutte le esperienze sono un po' diverse l'una dalle altre ogni persona al suo modo soggettivo di vedere fare le cose e quindi vi ho un po' parlato della mia esperienza e di quello che mi sono accorto essere più produttivo da quel punto di vista e ricapitolando molto in poco ovviamente per fare le cose bisogna avere le idee per avere le idee bisogna ovviamente leggere studiare informarsi e soprattutto essere sempre curiosi su tutto non pensare mai di sapere già tutto cioè voler sempre imparare e quindi abituare il cervello ad avere una certa elasticità mentale non essere chiusi a niente e imparare a non spegnere mai il cervello e quando poi si va nel concreto senza parlare di chissà cosa ma andando a parlare di effetti di magia il consiglio che posso dare è appunto partire dal finale e trovare il modo di arrivare a quel finale ah ovviamente ragazzi vi capiterà tantissime volte di avere un'idea che secondo voi è bellissima arrivare alla fine e riuscire a farla e rimanere in realtà delusi perché vi aspettavate meglio questo è normale come è normale magari avere un'idea lavorarci tanto e alla fine non ricevere riscontro positivo dalle persone anche questo purtroppo sono gusti può capitare e vi capiterà anche tantissime volte di avere un'idea provare a realizzarla e non riuscirci questa purtroppo è una cosa che succede davvero tanto spesso è una cosa che differenzia una persona con tante idee che fa tante cose da una persona che apparentemente non ha idee il fatto è che in realtà tutte e due le persone hanno avuto tante idee ma uno ha fallito mille volte e ci ha riprovato mille una l'altro ha fallito mille volte e non ci ha mai provato una volta in più quindi anche se è frustrante anche se vi sembra che ci siano persone sempre migliori di voi anche se vi sembra di non riuscire a realizzare nulla non è vero è proprio questo il pensiero sbagliato pensare di non poter avere idee pensare di non poter inventare qualcosa pensare di non poter mai essere meglio di un certo livello questo forse è un discorso anche a tratti un po' banale ma per me è molto importante e quindi l'ultimo consiglio che mi sento di darvi al di là appunto dell'argomento inventare proprio in generale in tutto quello che fate cercate di non mollare mai forse è una frase banale me la sarò sentita dire mille volte e anche io personalmente non ci ho mai dato peso a questa frase ma capisco che in realtà è reale come cosa è una cosa che davvero aiuta moltissimo e fa davvero la differenza vabbè con questa conclusione forse un po' troppo filosofica motivazionale io spero che questo video vi sia piaciuto spero che il mio pensiero i miei consigli un minimo vi siano passati nonostante non siano forse così chiari quanto vi aspettavate però appunto ho cercato nel migliore dei modi di dirvi la mia ce ne sarebbe da parlare per ore cioè io per l'argomento inventare creare avere progetti potrei davvero parlarne per tantissimo però ovviamente non posso fare un video di giorni e quindi nulla ho cercato di sintetizzare quanto potevo e come sempre non ci riesco mai fino in fondo però spero che questo video vi sia piaciuto se è così magari lasciate un bel mi piace quindi commentate scrivendomi se vi è piaciuto il video se qual è la vostra opinione se avete dei dubbi fateli cercherò di rispondervi nei commenti e nulla ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi